no signori calmi qua è uno sketch di cabaret buoni vincenza per piacere mantienemelo adesso una volta forse wow Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Andiamo a conoscere il nostro Michele, poi Matteo. Grazie a tutti. Complimenti, complimenti. Grazie a tutti. Applauso! Uno l'abbiamo già rispettato ed è stata la degustazione di pizza, adesso c'è la degustazione di pasta e ringraziamo il signor Zangardi che dall'alto ci fa segnale di avvicinarci su al bar per la degustazione di pasta. Tutti quanti sopra, DJ in musica!